Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per il pronostici di serie B Questa è la mia nuova location per dove registrerò i video Ho cambiato completamente stanza Ecco da d'ora in poi dove vedete tutta la mia maggior parte dei video Sarà questa la nuova postazione, la nuova stanza da dove registrerò i video Quindi possiamo dire una sorta di nuovo inizio Ma tornando al video dei pronostici, come sempre, come abbiamo fatto per la prima giornata 5-6 partite Però prima di dirvi le partite vi devo chiedere un pollice nel suo video Un'iscrizione al canale totalmente gratuita, mi raccomando iscrivetevi E lasciate un bel mi piace Partiamo col dirvi quali sono le partite che ho scelto Le partite che ho scelto sono Frosinone-Brescia Ci facciamo Bari-Palermo, Genova-Benevento, Perugia-Parma E anche un bel Pisacomo E possiamo fare anche un Ternanareggino, un Cair-Cittadella Comunque vediamo, non perdiamoci in chiacchiere Incominciamo subito Incominciamo da Bari-Palermo È la gara che darà il via a questa seconda giornata Una partita tra due squadre neopromosse Due squadre che sono partite entrambe bene Il Palermo di più vincendo la prima partita 2-0 contro il Perugia È un Palermo che si sta rinforzando Con Di Mariano, con Stulaz, con Bettella in difesa Quindi è un Palermo sempre più in costruzione Ancora un cantiere aperto Ma che sta facendo i giusti rinforzi Che sono i rinforzi da categoria Un Bari invece un po' più fermo sul mercato Ma che comunque di quello visto contro il Parna È un buon Bari Può andare a caccia di punti Secondo me Bari e Palermo Finisce sul risultato di X2 O pareggio o vittoria del Palermo Andiamo avanti con Genoa-Benevento Altro grandissimo big match Io vi dico uno del Genoa Credo che il Benevento andrà incontro Alla seconda sconfitta consecutiva Perché? Perché il Genoa visto contro il Venezia È un grande Genoa Che produce calcio Gioca veramente bene C'è qualcosa da registrare un po' in difesa Il portiere forse non è un massimo A questo punto farei giocare Semper Però comunque è un Genoa che è più forte il Benevento Il Benevento visto contro il Cosenza È un Benevento che va un po' a fase alterna O fa tanto bene O crea qualche coesione oppure non crea niente Dietro bisogna anche vedere un po' Come è messo questo Benevento Perché diciamo che Teio ha regalato il gol vittorio al Cosenza Nell'altra giornata Però secondo me tra Genoa e Benevento C'è un bel divario in questo momento Il divario va a favore della squadra di Blessin Andiamo avanti Frosinone-Brescia Altra grandissima partita che ci mette di fronte A una scelta difficile su chi puntare Che pronostico dare Secondo me Frosinone-Brescia Può finire in pareggio E vi dico X Non vedo una netta favorita Per nessuna delle due squadre Sono due squadre che giocano bene Due squadre che vengono dalla vittoria Alla prima il Brescia con il suo tiro al 2-0 Il Frosinone a Modena era facile Contro il Modena al Braia per 0-1 E quindi sono due belle squadre E quindi per l'appunto vedo un pareggio tra Frosinone e Brescia Andando avanti Facendo ragazzi Ternana-Reggina O comunque anche un bel Pisa-Como Facciamo tutte e due E anche poi Perugia-Parma Ternana-Reggina Vi dico Anche qua vi dico X Non vedo una netta favorita Anche se la reggina Vista Ferrara con la Spal È una grande reggina La Terranana si deve riscattare Dopo il KO Contro l'Ascoli Ragazzi ad Ascoli Però non vedo Nessuno dei due Secondo me è nettamente più forte dell'altra La Terranana sicuramente andrà a cacciare i punti E vedo un pareggio Anche per queste due squadre Perugia-Parma Bella partita Anche qui vi dico Due del Parma Il Parma visto contro il Bari È un buon Parma Che se migliora qualcosa A livello difensivo Può fare grandi cose E quindi Mi aspetto un Parma Che punti alla vittoria contro il Perugia Il Perugia in casa vorrà far bene Ma il Perugia Ha visto col Palermo E vabbè È una partita un po' a sé Perché ha giocato in dieci tutta la gara Però Credo che il Parma sia più forte del Perugia Anche se il Perugia I primi 20 minuti Dopo l'espulsione Diciamo di Lisia Ha fatto vedere qualcosina di non male Contro il Palermo Però credo che il Parma sia più forte E più completo in questo momento E soprattutto Fabio Pecchi Ha già fatto vedere cose interessanti Rispetto a un Castori Che vedo leggermente indietro Andando su Pisa-Como Altra grande partita Pisa-Como Vi dico Vi dico Vi dico due Vi dico due del Como A sorpresa Perché il Pisa È difficile da valutare La sua prima partita Contro il Cittadella Per Causa Valutazioni arbitrali Leggermente sbagliate A sfavore del Pisa Però il Como Visto contro il Cagliari È un grande Como Che può fare punti Anche contro il Pisa Il Pisa è ancora un'incognita Secondo me è ancora Completamente un cantiere aperto E per questo Mi sbilancio E vi dico due del Como Fatemi sapere la vostra Qui sotto con un commento Mi raccomando Pollice nel suo video Iscrizione al canale Ditemi come vi sembra Questa nuova location Per i video E noi ci becchiamo A un prossimo video Bella ragazzi